Nessuno, nessuno dico deve sapere di quella partita doppio tagliata male Sono stato chiaro? Meglio per noi Ma non l'ho pensato proprio Io li faccio male Signore, si sente bene? Sì, bene, tutto a posto Ha bisogno d'aiuto? Ma fare questo vento, si è del tempo, mi vuole ricompensare Sono molto angosciata dalla morte di me Si frequentava cattive compagnie negli ultimi periodi Ci frequentavamo di meno dopo il periodo del liceo Però gli volevo ancora un mare di bene Credo che mancherà molto nella mia vita E in quella dei nostri parenti ed ex compagni di scuola Ancora non ci credo che mio cugino sia morto Credo che assumeremo un investigatore privato È un'idea di mio padre Sperando di donare pace all'anima di Mario Guardi, non vorrei aggiungere altro, mi perdono Sono molto stanca Ho riposato poco in questi giorni Stia tranquilla, la confermo Ho saputo che in comune c'è la televisione Il sindaco sta facendo un appello contro la droga Andiamo vicino E vediamo di capirci qualcosa Come vuoi dire? Grazie 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 Grazie